Ciao ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate nella rubrica dei libri. Oggi parliamo di un libro che ho letto l'anno scorso, meno di un anno fa in realtà, che mi ha veramente aperto la testa. Sì, ho uno scoccio tipo antistress perché la pallina me la magna il cane. Allora, il libro in questione che mi è stato regalato, non ricordo da chi, se tu me l'hai regalato e non me lo sto ricordando, scusami, il libro si chiama Plant Revolution di Stefano Mancuso, professore all'Università di Firenze. Allora, il libro Plant Revolution di che cosa parla sostanzialmente? Di come noi animali e nello specifico noi esseri umani dovremmo cominciare a considerare il modello anche delle piante, dei vegetali per interpretare la nostra vita a livello di processo. Quindi ci sono delle cose fatte in maniera molto semplice che le piante fanno in un certo modo e che si rispecchiano anche nella vita degli esseri umani o almeno dovrebbero. Ovviamente io non vi spoilererò assolutamente di che cosa si tratta perché ci sono una serie di capitoli in cui per ogni capitolo si parla di un singolo processo però per farvi un esempio anche le piante hanno dei meccanismi di difesa quindi girano le foglie, cambiano posizione e quant'altro. Questo è un esempio banale, stupido, che conosciamo tutti che però vi fa capire un po' il tema del libro. Il libro è molto bello perché è un libro divulgativo, non è un libro scientifico complicato ci sono dei termini di biologia, c'è la categorizzazione di Linneo chiaramente tutta la tassonomia delle piante, dei vegetali in generale ma è tutto spiegato, quindi è un libro alla portata assolutamente di tutti. Le piante hanno già inventato il nostro futuro, dice il buon Mancuso tant'è che l'ultimo capitolo del libro parla proprio di modelli e prototipi di macchine e di robot che si ispirano a come funzionano le piante, alle funzionalità delle piante, si direbbe in gergo tecnico. Il libro è stato anche criticato, in realtà però su Amazon per esempio è votatissimo con 344 voti a 4 stelle e mezzo, comunque è un bel punteggio, io ho molti meno recensioni, ne ho 4 su 5 quindi se avete letto la duplice alleanza andatemi a votare se vi è piaciuto possibilmente 4 o 5 stelline se invece non vi è piaciuto non fate niente, però ditemelo in privato no sto scherzando, comunque se non l'avete letto ho compratelo chiaramente però questo libro è assolutamente un libro per cui ci vuole un pochina di pazienza nel senso che ci vuole un po' di concentrazione, nel senso che è divulgazione però si parla di processi, di azienda e anche di vita però credo veramente che sia un libro che potrebbe aiutarci a ripensare anche lo stesso nostro rapporto con le piante, che talvolta soprattutto per la grande diffusione mediatica, a volte anche eccessiva, di una certa frangia del veganesimo e del vegetarianesimo un po' estremista, magari le persone che sono appunto onnivore tendono ad allontanarsi ecco questo è stato forse uno dei primi passaggi che mi sta lentamente portando verso una consapevolezza diversa del modo in cui mangio e considero l'ambiente chiudo dicendo che sostenibilità quindi non è solo viva le piante perché ci danno l'ossigeno è forse le piante hanno già trovato un modo di vivere più sostenibile al quale potremmo ispirarci se fossimo abbastanza bravi se lo leggete, come sempre, fatemi sapere ci vediamo il prossimo venerdì ci vediamo il prossimo venerdì ci vediamo il prossimo venerdì grazie grazie